Ciao ragazzi, 10 consigli per arrivare a 100.000 iscritti su YouTube. Numero 1, devi iniziare sempre con ti prego. Ti prego, fammi arrivare a 100.000 iscritti, ti prego, fammi arrivare a 100.000 iscritti. Numero 2, ci vanno i sordi. Vieni dai cinesi, ti chiede la sua volontà, vieni dai cinesi. Numero 3, ci vuole una raccomandazione, la devi dar. Vai per strada, Manlio, vai per strada. Ma che nome è Manlio? Numero 4, ci vuole un, non so che, un senso di cambiamento, che però poi non cambi niente. È la locura, René, se la zecchi hai vinto. Numero 5, non devi mai esagerare con le citazioni. Oh, però adesso è importante che non dici cazzate. Numero 6, ci devi mettere il core, ci devi mettere il core. Noi il core ce lo mettiamo, eppure l'occhi, due. Ma resta l'annosa questione degli straordinari d'aprile. Numero 7, ci vuole fortuna, bucio de culo. Numero 8, devi essere preciso, impeccabile in quello che fai, che poi lui è muto, non parla. Numero 9, devi insegnare qualcosa, ma devi anche far divertire, devi anche intrattenere, devi fare ridere. Nando, le faccette! Dopo siamo tristi per la tua morte, ma adesso ridiamo con te. Ma soprattutto, numero 10, devi essere interessante. Bene, questi erano i miei 10 consigli per raggiungere 100k iscritti su YouTube. Alla prossima, ciao! Cosa vuol dire essere interessante? Va bene, ok, spieghiamoci meglio. Numero 1, devi avere qualcosa da dire. Non devi voler diventare uno YouTuber come se i contenuti che porti fossero secondari. No, devi avere un bisogno impellente di dire e dare qualcosa di specifico. Numero 2, devi aver fatto qualcosa nella vita che può aggiungere valore nelle vite degli altri. Un ragazzino che mi spiega come si investe è molto poco credibile, anche se parla di quantum trade e iblockchain. Numero 3, devi saper esporre le tue idee o voler imparare a farlo. Chiarire anche e soprattutto a se stessi le proprie idee ed esporle agli altri è un lavoro difficile che richiede tanta iterazione e tanta pratica. Ci vuole del tempo, ma ha tantissimi benefici secondari. Numero 4, devi sapere esporre le tue idee in modo interessante, che catturi l'attenzione, che ispiri all'azione e che diverta. Life is too short per ascoltare qualcuno che te fa due palle così. Numero 5, devi essere orientato all'azione. Di canali che parlano di cose ne abbiamo a milioni. Di canali che mostrano come si fanno le cose, o come il content creator fa o ha fatto le cose, ce ne sono ancora troppo pochi. Parli di coding? Bene, coding in public. Parli di investimenti? Bene, mostra il tuo portfolio e mostra ci i tuoi ragionamenti, senza troppe marchette. Numero 6, devi volerti dar via. No, non in quel senso. Nel senso che devi essere generoso e dar via tutto il tuo sapere. Vuoi che diventi un business? Lo diventerai inevitabilmente se crescerai, ma non è il tuo focus oggi. Oggi dai via tutto senza chiedere niente in cambio. Bravo, lasciati tutto alle spalle, è come un barbone di Dio. E sempre connesso a questo, devi sapere aspettare, devi sapere aspettare. Un anno è poco, due anni sono pochi. Ci vuole tempo, ci vuole tantissimo tempo. Io ho iniziato nel 2016 a parlare di finanza, oggi siamo nel 2023, fine 23, passati sette anni e mezzo. Ci vuole pazienza. Numero 7, devi coltivare i tuoi input con cura. Devi nutrire il cervello con cibo intellettuale di altissima qualità. Cerca materiale evergreen, evita l'attualità. Produci i contenuti evergreen, evita le keyword che fanno click. Però c'è anche la gioia, c'è anche la gioia. Perché la content creation non è soltanto roba seria, politica, ma ci sono anche le scorregge. Ci sono anche le scorregge, perché c'è. Numero 8, e questo è il più difficile, devi oliare il tuo cervello con cura. Al di là degli input che hai già curato, la tua macchina intellettuale deve essere molto ben oliata. Devi avere una toolbox di mental model che ti aiutano a navigare il mondo. Devi essere scettico, ma sapere argomentare. Difendere le tue posizioni, ma tenerle sempre nella graticola dell'aggiornamento bayesiano a fronte di nuove evidenze. La credibilità e il successo del tuo progetto dipendono fortemente dalle tue capacità di ragionamento e della tua onestà intellettuale. Numero 9, devi essere una macchina da guerra. E questi erano i 9 consigli che vi volevo dare. Ciao, alla prossima! Ok, che significa macchina da guerra? Hmm, forse devo essere più chiaro. Va bene, 8 consigli su cosa significa essere una macchina da guerra. Numero 1, devi lavorare tantissimo. Eh, non c'è molto da dire a riguardo, c'è tantissimo lavoro. All'inizio poi, se non puoi permetterti i collaboratori, fai tutto te, tutto. Valuta se puoi permettertelo. Spoiler, se hai tre figli piccoli, lascia perdere. Non lo fare, non te lo puoi permettere. Secondo voi io sono... matto? È una qualità, è una qualità. Numero 2, devi essere ossessivo. È l'unica via per la genialità. Consiglio al volo di leggere The Bastic Theory of Genius di Paul Graham. Grande Paul Graham. Sempre si è aludato. Numero 3, devi fregartene delle metriche esterne sulle quali hai poco controllo, come numero di views, watch time, iscritti. Inizialmente definisci delle metriche interne sulle quali hai controllo. Devi essere ossessivo con le tue metriche interne di qualità e quantità. Tu le definisci e sono raggiungibili in base a quanto ti impegni e quello che riesci a fare. Qualche feedback non guasta, ma il raggiungimento dipende soltanto da te. Numero 4, devi delegare. Io non son bravo in questo, ma se vuoi crescere, a un certo punto devi trovare qualcuno a cui delegare le cose che non sono il tuo core business, che non sono la tua skill principale. Non appena hai budget, delega qualcosa. Numero 5, devi attrarre un team di persone che ti sappia aiutare, consigliare, fare brainstorming con te quando serve, che sia duramente critico quando serve, che sappia mostrarti i tuoi bias e i tuoi blind spot. Meglio ancora se sono tuoi follower, se è un team di persone che si crea spontaneamente attorno a te, ciascuno con individualità specifiche e skill specifiche. Mi fa fatica a metterlo, ma senza il rip CDA non sarei arrivato dove sono arrivato. E notare che questo è diverso dalla delega professionale di cui parlavo al punto precedente. Qui parliamo di consiglieri. Numero 6, devi essere consistente con l'output. Se vuoi crescere, devi esserci. Viviamo in un mondo che premia la quantità, purtroppo, mentre la qualità è un fattore di igiene, inizialmente. Ovviamente è più complesso di così. Se vuoi arrivare a milioni di iscritti, la tua qualità deve essere impeccabile, ma all'inizio la quantità e la regolarità premiano di più, purtroppo. Però quantità sensata, eh? No roba e butta del lì tanto per. Numero 7, devi essere creativo. Devi avere molte più idee di tempo a disposizione per realizzarle. Se il tuo documento con le idee non ancora realizzate, non cresce a velocità tripla rispetto a quelle che riesci a realizzare, considera bene questa professione. Se temi il blocco creativo, oh mio Dio, non so più cosa fare, lascia perdere. Numero 8, finalmente, l'ultimo, come ogni macchina da guerra, devi fare tantissima manutenzione. E questo era tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ah, ho detto manutenzione. Adesso che vuol dire? Non capiranno. Non capiranno, non capiranno, non capiranno. Vabbè, spieghiamo un po' cosa intendo per manutenzione. Punto 1. Non ti bruciare. Lavora tanto, perché devi lavorare tanto, ma cerca sempre un qualche bilanciamento che tenga in piedi anche gli altri ingredienti di una vita sana. Relazioni umane, attività fisica, salute mentale, e così via. Altrimenti magari è un bel risultato all'inizio, ma poi dopo vai in burnout. E non lo sto dicendo a me stesso, no, no. No, lo sto dicendo a voi, a voi. Punto numero 2. Non farti buttar giù da commenti di merda. Questa cosa è assurda, lo so, ma ci sarà gente che verrà sul tuo canale a dirti che non gli piaci. Non che ci sia niente di sbagliato a non piacere a qualcuno, ma dal vivo, nella vita reale, uno non entrerebbe a casa di uno che sta offrendo del cibo a dire quel cibo fa cagare e basta con gli inglesismi. Si dice baked, si dice cotto al forno, stronzo. Non succederebbe nella vita reale una cosa del genere, no? Ma fregatene, banna, hide user from channel, vaffanculo. Me la vedo troppo sul personale su sta roba qua. Evita di blastare se ci riesci almeno tu, perché questa gente è vendicativa e verrà a metterti i pollicioni verso il basso, eh? Maledetti! Punto numero 3. Devi scegliere, devi mollare qualcosa. Non puoi far tutto. Devi accettare che ci sono cose che vuoi fare che non farai mai nella vita. Questo si chiama crescere. Io ho gli anni che ho. Che vita di merda! Riceverai più mail di quelle che riuscirai a rispondere. Inviti a comparire in trasmissioni o in video altrui. Inviti a sponsorizzare la qualunque. Mail, messaggi privati su cento piattaforme diverse. Non riuscirai a rispondere a tutti, non riuscirai a fare tutto. Lascia perdere. Sii in grado di lasciare andare contatti, persone, mail, è la vita. Almeno io a questa dimensione attuale mi rendo conto che non riesco più a stare dietro a tutti e qualcuno purtroppo scusatemi, scusatemi, non riesco a rispondervi. Punto numero 4. La gestione del tuo tempo è fondamentale. Già lavorerai 40, 60, 70 ore a settimana e ti piacerà tantissimo sotto tanti punti di vista. È bello, c'è anche la gioia. Ma nonostante lavorerai come un matto vorresti avere 200 ore a disposizione ogni settimana per fare tutte le cose che vuoi. Impara a gestire il tuo tempo, a dire di no, molti più no che sì, inizialmente direi molti sì perché è ovvio, all'inizio non ti caga nessuno, all'inizio devi dire sì a tutti, sì, 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 sì. A un certo punto molti più no. O è una cosa che è proprio una figata o se no, non hai tempo per queste cose. Anche perché disperdere le energie su 100.000 fronti significa non far bene la tua cosa e non preoccuparti di risultare duro nel rifiutare le richieste del tuo tempo. Se uno li ferma per strada e ti chiede 50 euro tu gli dici tranquillamente di no. Ma se ti ferma per strada e ti vuole parlare siamo più, siamo tentati ad accettare questa cosa qua. Ma in realtà gli sta chiedendo dei soldi anche lui. Non perché poi dopo te li chiederà veramente ma perché chiedendoti di ascoltarlo per 30 minuti e tu non ne avevi voglia gli sta chiedendo dei soldi. Perché il tempo è danaro! No, il danaro è tempo. Il danaro è tempo. Non il tempo è danaro è anche, anche. Ma il danaro è tempo. Con i soldi ti compri la tua libertà. Punto numero 5. Usa queste stesse considerazioni che ho appena fatto nel punto 4 quando vorrai interfacciarti ad altri content creator. Se tizio ha 100.000 follower non ha tempo per te. Quindi smettila di chiedergli di comparire al tuo podcast che non esiste. Che c'hai 30 iscritti. Che non te conosce nessuno. Non chiedere. Non chiedere. L'unica chance che hai per ottenere la loro attenzione è dare tantissimo valore e levarti dai coglioni subito. Solo così può nascere qualcosa. Punto numero 6. Devi resistere nei momenti di sconforto. Quei momenti difficili quando la vita ti gioca a brutti scherzi oppure le metriche esterne non ti soddisfano particolarmente e le cose non vanno come speri. Devi resistere a una maratona non è uno sprint. Ci vogliono anni. E soprattutto punto numero 7. Devi divertirti. Per fare manutenzione per tenere in piedi la macchina oltre al lavoro ci deve essere il divertimento. Divertiti e è andata. E questi erano i 7 consigli per fare un'ottima manutenzione dell'automacchina. Divertiti. Ciao alla prossima. Sì ma divertiti come? Punto numero 1. Tu lavorerai tantissimo e se non ti diverti si vede e nessuno vuol seguire o perdere tempo dietro a qualcuno che non ha passione per quello che sta facendo. Punto numero 2. Devi conoscere le regole di una piattaforma l'algoritmo per poi distruggere tutto e fare come ti pare. Si streama così si fanno video cosà le thumbnail vanno fatte così il titolo deve essere cosà il titolo deve essere di 5 minuti 10 minuti 15 minuti usare le tag in questo modo manda l'affanculo Arianna. Devi avere il coraggio di sperimentare fai il cazzo che ti pare divertiti. Punto numero 3. Cerca i tuoi simili questo forse è uno dei pochissimi lati indiscutibilmente positivi di tutto internet. Puoi conoscere ed incontrare persone simili a te che non sono geograficamente vicine a te e se sei un content creator ne puoi conoscere infinite. Questo ammetto che è uno dei motivi per cui ho iniziato a bloggare nel 2016 e ho iniziato a fare i video nel 2021 incontrare i miei simili e sta andando molto bene sono molto soddisfatto di quello che ho creato attorno a me. Punto numero 4. Collabora ma stai attento sempre al hell yeah or no collabora solo su ciò che ti dà gioia la gioia. Punto numero 5. Collaborare è figo sì ma non devi essere quello che collabora con gli altri e basta devi essere qualcosa di tuo non fabbiofazzizzarti c'è poco mercato per i fabbiofazio oltre a fabbiofazio. Punto numero 6. Divertiti sì ma cerca di capire cosa vuoi dalla vita. Ciao alla prossima ragazzi. sì però un po' devo andare avanti che io finisco e poi non capite devo spiegarmi cioè dai basta cosa vuoi dalla vita? Cosa vuoi dalla vita? Basta dai. Vabbè punto numero 1. se vuoi che questa roba diventi una professione a un certo punto devi fare dei compromessi col diavolo il dio denaro quindi prima setti la tua asticella etica e meglio è se ti fai trasportare dalle circostanze o agisci in modo un po' avido prima o poi farai una singola cazzata che distruggerà la tua reputazione e online credetemi una cazzata cancella mille cose buone fatte quindi evitate stare molto attenti barra etica molto alta. Punto numero 2. a differenza di altre professioni più tradizionali quello dello youtuber ha una non linearità nei ritorni impressionante al pari dell'artista o dello sportivo se non fa per te questa roba cerca di lavoro fisso alle poste randazzo maledetto punto numero 3 in ogni caso difficilmente per te questa roba diventerà una professione al massimo sarà supporto a un'altra professione cerca di capire qual è quella professione marketing teaching product selling education non si è youtuber e basta sono pochi che ce la fanno punto numero 4 un lavoro comporta sempre tanta merda da mangiare tra le poche cose che reputo interessanti di Mark Manson nel suo The Subtle Art or Not Giving a Fuck c'è il concetto di shit sandwich cioè dovrai comunque mangiare merda scegli la merda che ti piace di più non scegliere la professione della tua vita in base agli aspetti positivi immaginari di quella professione che spesso sono solo ipotetici appunto immaginari scegli in base a quanto riesci a gestire gli aspetti negativi di quella professione e va sicuro che nel fare il content creator ce ne sono tanti di aspetti negativi immagina se Matisse avesse avuto la chat di Twitch ad ogni spennellata citando il grande Uesa e finalmente punto numero 5 capisci cosa vuoi fare nella vita sì ma relativizza tutto relativizza e quindi ho capito ho capito andiamo avanti punto numero 1 tra un centinaio d'anni tu e tutte le persone che hai mai conosciuto saranno tutte morte tutte te chitisi te chitisi punto numero 2 forse manco servono un centinaio d'anni è qua salta tutta la baracca fra un po' tra cambiamento climatico guerre di qua pandemie quali cent'anni? 30 anni ti è ti è punto numero 3 in ogni caso fra un miliardo d'anni la terra sarà inabitabile il sole sarà cresciuto sarà per esplodere inglobare la terra quanti sono un miliardo d'anni? quanti cazzo sono un miliardo d'anni? crea un grosso sole lui te schiaccia te sei una merda non conti un cazzo dai punto numero 4 poniti sì queste domande esistenziali sul senso della vita ma se ti mettono troppo ansia molla tutto molla tutto molla tutto sì sì che significa punto numero 1 molla proprio tutto vai a vivere nelle foreste nei boschi è lì che sta la felicità maledetto Alex Supertrump se non andavi a fare il fricchettone in culo al mondo in Alaska lasciavi un messaggio molto più bello mannaggia into the wild ti amo e ti odio ma ti amo ma ti odio punto numero 2 molla tutto smetti però di leggere anche di leggere io non leggo più niente neanche i cartelloni stradali punto numero 3 molla tutto ma con gioia perché sì la vita è il sole che esplode il senso della vita dolore morte morte di parenti familiari amici ma c'è anche la gioia c'è anche la gioia che significa punto numero 1 tratta gli altri come meglio credi vogliono essere trattati che a mio avviso è più forte del non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te stesso tratta gli altri come meglio credi vogliono essere trattati a mio avviso è una versione superiore se uno sa osservare il prossimo cioè metti che di fronte è una persona coprofaga e sadomaso se lo tratto come non voglio essere trattato io non è che lo sto trattando proprio bene la golden rule è una buona guida ma magari questo preferisce una golden shower che cazzo ne so io scusa scusa punto numero 2 YOLO you only live once si vive una volta sola il che significa punto finale numero 1 scopare scopare no ragazzi scherzo in realtà è più facile io dico così basta cambiare il frame di riferimento basta cambiare la base ad esempio in base 4 100.000 sono 1024 che ce vuoi a fare 1024 iscritti che ce vuoi ci è riuscito pure che fortuna e questo è tutto ragazzi ciao grazie a tutti grazie a tutti